Sì, 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 e poi vedrai che si accorgeranno anche di quanto sei bravo, ma... dopo. Io invece ho il terrore che si accorgano di quanto non sono bravo, ma subito. Non si capisce perché si debba chiedere di continuo ossessivamente agli attori perché hai deciso di fare l'attore, mentre poniamo a un medico non si chiede mai perché hai deciso di fare il medico, mentre ci sono molti medici ai quali bisognerebbe chiedere di continuo perché hai deciso di fare il medico. Ma sei matto? E tu alla mattina per colazione prendi solo un caffè? Ma dico sì, ma sei matto? Ma tu, caro amico mio, ti devi voler bene. Tu alla mattina ti devi alzare un'ora prima e fare una bella colazione. No, è proprio perché mi voglio bene che io la mattina mi svegli un'ora dopo. Scusa, abbia pazienza. Poi figurati se ho voglia di mettermi lì pane, burro, marmellano. Il burro! Ma sei matto? Burro! Burro è velea! Burro! Tu devi fare una bella colazione ricca di fibre, sali minerali, vitamine, oligoelementi, omega 3, sì vabbè ma anche qualcosa da mangiare magari di... La parola chiave è rilasso, rilasso. Sai perché io qui faccio tutto, mi faccio il vino, mi faccio l'olio, mi faccio il pane, mi faccio la legna, mi faccio l'orto, secondo me ti fai un mazzo così. Io ho il riscaldamento centralizzato, la spesa me la portano a casa, secondo me mi rilasso più.